A Sicilì buona la partecipazione alla prima giornata del baratto, organizzata dalla Cooperativa Sociale Terra di Resilienza e svoltasi sabato pomeriggio in piazza Umberto I. È stata infatti una giornata di festa e di incontro, quella che si è consumata all'insegna dello scambio di beni e di servizi, una giornata che è stata intitolata Barattolo, l'ottavo nano contro la crisi e che si è caratterizzata della presenza di numerosi curiosi. Quadri, oggetti d'antiquariato, alimenti dell'orto, semi antichi e saponi artigianali sono i beni presentati alla comunità dello scambio, ma c'è anche chi, come un gruppo di giovani, ha barattato bene i materiali offrendo la propria esperienza nella creazione di siti internet e di video, oppure chi, in cambio di un oggetto, ha regalato la sua prestazione musicale o un reportage fotografico sull'evento. Il barter, che ha barattato con più soggetti economici, è stato il frantoio Marsicani di Sicilì e l'olio extravergine d'origine locale è stato perciò il prodotto maggiormente ricercato. Barattare, dunque, è un nuovo modo per fare shopping e fare acquisti non è mai stato così facile. Il baratto fa bene al borsellino perché non compri nulla, all'ambiente perché riutilizzi tutto e alle relazioni. Se si pensa che, dalla California, un ingegnere, venuto a conoscenza della festa del baratto a Sicilì, ha contattato gli organizzatori dell'iniziativa offrendosi di dare una mano con la traduzione dall'italiano all'inglese nel sito internet della Terra di Resilienza, in cambio di una gita o di una bella cena cilentana. Soddisfatto tutto lo staff della festa del baratto, che auspica possa diventare, l'iniziativa, un evento a cadenza mensile. Grazie a tutti.